Sì? Eh sì. Cioè tu su HP non usavi caricatori rapidi? 2 nil! Eh uno l'ho preso e l'altro mi ha lasciato la granata. Eh fino al mo. Tira la nade dentro, scusami. L'avevo tirata bene però, devo essere sincero. Sì, è vero. Quella prossima è buona. Hai fatto da cavia. Sì. Ecco il cazzo, vaffanculo, quello è entrato eh. Io sono spawnato male ancora. Io sono anche una altra la cima. Io mi riesco a prendere quello che c'è dalla postazione. Io non l'ho spunto male. Ok, hai preso quello in il. Un altro nel fuoco della postura. E' una one shot prima. Eh, one shot una sega, ancora vivo. Gli ho dato due colpi. Un nuova postazione individuata. Sono spawnato dall'altra parte della mappa. Uno l'altro esterno. Ha fatto voler un altro, son due, son due, son due, son due, son due, son due. Ce n'è, sono uno dentro la casa, uno sdraiato e l'altro che mira qua. Altra è nell'edwich, già pesi sempre. E' nell'edwich lì. Stai, non riusciamo a romperla, regà. Gli diamo punti e basta. Prendiamo la spawn l'altro. Preparatevi alla prossima e iniziamo già a mirare qualcosa di utile. C'è un giorno da sinistra, eh. E' ovvito da... Dal corridoio. Io mi sa prendere lo spawn qua. Io c'ho war run. No, 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 non ci sta qua, sei sasino. Vale, la toffa adesso. Easy, no, aspetta. Entra in hill. Gli scar hanno la postazione. No, 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 no. Dietro, preso. Un altro dietro. Ah, sì. Un altro ancora, regà. Non ho pushato, mi sa che l'assai. Ancora wall run, one shot. Guarda dietro io, guarda dietro io. Wall run, due. Preso. Tutti e due one shit, bella. Lol. Hai preso. Sì, sì. La prossima qual è, regà? E' quella sulla bomba. Quella dove c'è la bomba. Ha fatto... Scusami. Ah, vai, tra, vai, tra. Eri davanti al nemico. Ma che rispondo bene per la prossima. Sono su quella dopo. Ha... Preso. Gira, gira Giulio, vieni. Ho i Trinity. Bravo. Ce l'ho dietro. Cazzo, bravo. Cazzo, bravo. Cazzo, bravo. Cazzo, bravo. Due, due, davanti, due, davanti, due, davanti. Due, due, davanti, due, davanti. Non sono riuscito a prendere nessuno. One shot, uno. L'altro pure. Già, pushato dentro, pushato dentro. Ce l'hai, ce l'hai, prendi lo Tiger. Preso. Bravo. Bravo. Non è te lo so. Dai, Gartari, ma ne guarda dietro che ti fai le kill e fai le streak. Ma sai. Ma io le ho già fatte tutte. Allora vai a cagare. Spacca tutto. E uno è entrato. Uno dentro la casa. Due dentro la casa. Due dentro la casa. Calza, 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 calza. Calza, calza, calza ferito. Dica, io non sto facendo niente. Basta sparare a casa. Star ma fa schifo. Le streak le tengo per romperla oppure per prenderci la rotazione. Una dentro la casa. Mi stanno sparando. Edwitch. Mi ha preso dietro il muro. Girate, girate, girate. Che bel gioco. Io sono il dietro vostro. No, non è il dietro. Questo è il davanti. Aspettate, 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 aspettate. La squadra ha catturato la postazione. Versagli confermati. Impatto imminente. Sto tirando il bombardment. Guardatevi dietro, raga, che davanti non arrivano secondo me. Eh, davanti. Tiro la streak, tiro la streak. Ok. Uno solo davanti. Guarda la sua di destra. Tiro la nade. Preso. Guarda. Vai che ha funzionato. Oh, è dentro solo di noi. Preso. Guardate la kill. Brava, la trigger. Corridoio, quel corridoio lì, Giulio. Un altro? Ma bisogna andare a destra, a destra, a destra, a destra è il corridoio, là. da dietro. Nooo, avevo lo spawn. Dio buono. Devi prenderla anche Giulio. Vai dietro Giulio, due dietro, due dietro. È morto, è morto, è morto. È morto, è morto. Eh, non ha preso. No, ma... Vabbè, potete darglielo un colpo. Io sto facendo lo più negativo. Oh, è striccassa. È morto, è morto, è morto. Una volta, no, è morto. È morto, è morto. È morto. È morto. Eh, non so neanche dove mettermi per ottenere la posta. Preso. Ce ne ho due dentro uno, one shot per final mode. Mi ha fatto spawnar bene. Qualcosa di positivo l'ho fatto in tutta la partita. Chi ha catturato il Trinity? Preso io. L'ultimo è l'ultimo. Sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Sono spawnato male. Io non ci credo. Preso uno. L'altro. Ah, ferito è dentro. Niente. Cambio l'arma, cambio l'arma. Pronto, gli ho creato la nilge. Preso. Vai, hai morto con granata quello. Corridaio, corridaio. Guarda, 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 guarda. Qual'era la prossima? La prossima è quella dove c'è la bomba. Catturata, la caratteristica. È la paratta. È la strata quella nade. One shot in hill. Regala, la prossima è la prossima, la prossima. Guardatemi la casetta dentro, personale. Dietro, dietro, dietro. bravo una casetta e vaffanculo però che palle dire sto facendo dal dietro non è una bell'idea non era l'unico calma 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 sta arrivando sta arrivando no non faccio una chido preso 17 mila c'è tutti dentro madonna mi son salvato casa 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 vabbè ho perso un gambe c'ha vinto bravo giulio guardati davanti che arrivano davanti preso io testo giati 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 dietro 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 ancora bravi guarda al lato destro quello che giulio vai sopra giulio vai sopra sinistra vai sopra lasciami a me qua c'è la mira il miro la porta con le smg stazione non è vero appusciata la porta centrale è sotto l'altra appusciata da dietro non ha pensato sbaglio tutto io sto sparato male bravo giulio resisti resisti l'ultimo no c'è ancora di più presa figa 19.000 assist ho fatto sta pagina tenetela tutta regali intanto giro per la prossima un angelo dietro 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 due dietro due dietro due dietro tranquilli abbiamo lo spon qua abbiamo lo spon qua in teoria più o meno come hai fatto a sponarla io ragazzo sono dentro il perfetto dov'è dov'è no dal dietro questo mid ha fatto ha fatto kinetico che hai preso l'hai ciso con l'impatto della granata si fortissima sta granata una volta franz 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 La doppia finale che mi fa fare al negativo un po' meno brutto